Buongiorno a tutti, sono Fioravante Piero Bond del sito lezdtrading.com, ben ritrovati all'analisi settimanale dello Standard & Poor's 500. Riprendiamo come sempre dall'analisi fatta la settimana scorsa con il mercato che aveva chiuso il 7 venerdì 7 agosto 2009, quindi ripropongo come sempre il grafico al 7 la settimana scorsa dove impostato con il bateplan con la nostra previsione avevo ipotizzato un ciclo un po' anomalo a 24 giorni che è questo qui e ci trovavamo praticamente quello che usurde di venerdì 7 intorno probabilmente a questo massimo che avevo dato per massimo probabile praticamente di fine ciclo a 24 giorni. Carichiamo i dati ad oggi, oggi è sabato 15 agosto quindi ieri la borsa è chiusa con venerdì 14 agosto e vediamo cosa è successo. Allora ripeto da qui il venerdì 7 adesso vediamo un po', ecco qui, qui era venerdì 7 effettivamente è stato il massimo del ciclo a 24 giorni poi i prezzi sono scesi sono risaliti e hanno ricalcato diciamo bene il movimento del bateplan quello che è stato impostato nella previsione. Adesso con ieri si sono fermati a questo livello dove probabilmente ci potrebbe essere il minimo finale del ciclo a 24 giorni. Vediamo un po' con il modello con le velocità centrate cosa ci dice, eccolo qui, è interessante notare appunto questo che potete vedere in blu è sulla velocità centrata del ciclo a 24 giorni dove qui con l'incrocio del basso verso l'alto abbiamo indicato il minimo, eccolo qui, qui il massimo anche se ovviamente è sfasato al massimo effettivo ma questo non non importa e adesso sta andando a cercare il minimo. Qui invece abbiamo il sottociclo a 12 giorni minimo, incrocia l'asse dello zero massimo e dal basso verso l'alto minimo. Qui arriviamo alla metà è interessante vedete notare le medie mobili semplici che ho impostato nei prezzi che sono rappresentative questa rossa appunto del ciclo 12 giorni quella blu del ciclo a 24 giorni come in questo caso qua a metà conclusione del ciclo 12 giorni aveva rotto un attimino la media mobile e poi risalito in su a punto a confermare la partenza di quello nuovo. Poi qui a un certo punto ha rotto a indicare poi il massimo e adesso è ripartita. La stessa cosa poi adesso è avvenuta nel ciclo a 24 giorni praticamente con ieri venerdì 14 i prezzi hanno rotto la media mobile blu rappresentativa del ciclo a 24 giorni e poi verso fine giornata borsistica sono ripartiti all'insù. Tutto questo ovviamente va trasportato nel battle plan scusate eccolo qua quindi teoricamente dovremmo essere alla fine del ciclo a 24 giorni e la prossima previsione è la partenza di uno nuovo allora per confermare tutto questo ovviamente vanno cercati dei segnali tecnici ognuno avrà i suoi tanto per dire un segnale semplice sarebbe la rottura di questa trend line rialzo la prossima settimana se questa trend line praticamente di bassista venisse rotta all'insù confermerebbe lo scenario ipotizzato una continuazione del trend rialzista in atto i prezzi non hanno detacciato più di tanto comunque con il tempo sempre che ci siamo appunto l'unica cosa da fare è quella poi appunto di aspettare delle conferme tecniche per entrare di nuovo log. Un'altra situazione che avevamo ipotizzato era quella del battle plan impostato a 3 sottocicli che è questo qua in cui avevamo il primo ciclo a 12 giorni che è questo suddiviso in 3 parti in 3 sottocicli e il ciclo l'altro ciclo a 12 giorni che dovrebbe essere quasi finito anche questo a 3 sottocicli a concludere qui il ciclo a 24 giorni vedete in questo caso qua dovrebbe mancare lo stesso poco dovremmo avere un giorno massimo 2 ancora a chiusura di questo ciclo anche questa situazione è probabile ad ogni modo che sia così o nell'altro modo poco ci interessa perché le nostre entrate dovranno essere solo se tecnicamente confermate quindi si entrerà long solo se avremo delle conferme tecniche effettive di ripartenza praticamente dei prezzi a rialzo ok vi faccio vedere il ciclo a 24 giorni che è stato molto chiaro qui ripeto ha rotto e adesso è ripartito lì in su quindi la previsione è la seguente monitorate bene i prezzi la prossima settimana e se avrete delle conferme tecniche valide si entrerà di nuovo di alzo del mercato con questo è tutto vi aspetto la prossima settimana per il nuovo aggiornamento e vi auguro a tutti buon trading e buon ferragosto ciao a presto